Si chiama Giardini del Benessere, un progetto che si intende portare a Sulmona in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologia dell'Università di Bologna. A presentarlo l'architetto Renassaluppo, che ha colto nella sede del Partito Democratico in Corsovidio il senatore Molisano Roberto Ruta, capogruppo del PD in Commissione Agricoltura, primo firmatario dell'Ordine del Giorno, approvato recentemente all'unanimità al Senato per la difesa dell'agricoltura italiana dagli OGM. In questo discorso si inserisce a pieno il progetto dell'architetto Saluppo che prevede la valorizzazione delle tipicità locali per trasformarle in prodotti che abbiano una funzione benefica sulla salute umana. Ottenere i prodotti nutraceutici, che sta a significare semplicemente un prodotto che nasce dalla natura, però con il controllo della scienza, quindi con il controllo umano. Tutto questo noi l'abbiamo introdotto in opposizione al discorso relativo agli OGM. E allora noi vorremmo poter utilizzare quello che il territorio, la Valle Peligna in particolare, offre quindi i prodotti autotoni e trasformarli in questi prodotti nutrigenici. Le strutture dove poter operare saranno individuate in fabbriche in disuso che verranno appositamente riconvertite. Dare la possibilità di riutilizzare quello che già c'è ed ecco quindi parliamo di uno sviluppo urbanistico a volume zero che preveda il riutilizzo di fabbriche in disuso per le quali si vuole pensare ad una riconversione e poi la valorizzazione di quello che il territorio ci offre. Una proposta intelligente ha commentato di fronte alle associazioni di categoria presenti all'incontro il senatore Ruta che ha sottolineato come l'iniziativa è in grado di coniugare la ricerca e l'innovazione con i prodotti per la salute nell'ottica anche della Green Economy. Il progetto va proprio nella direzione dell'ordine del giorno approvato in Senato che ribadisce la necessità di adottare la clausola di salvaguardia contro gli OGM a difesa dell'agricoltura italiana, della salute e dell'ambiente. Un ordine del giorno da me presentato che punta con il consenso del governo a dire due cose no agli OGM da coltivare in Italia, quindi territorio italiano no OGM, quindi OGM free e dall'altro di potenziare da subito la ricerca per quanto riguarda il settore biologico. Questo si inquadra esattamente in questa proposta che è stata avanzata da Rina Saluppo insieme al sindaco, al candidato sindaco del centro-sinistra per dire che vogliamo fare una scommessa possibile in questa zona interna che però ha delle risorse importanti della filiera agroalimentare che possono essere potenziate e in quel modo diventano appetibili anche per le esportazioni. Credo che così noi risolleviamo le zone interne e così diamo nuova speranza oggettiva, reale di futuro per le nuove generazioni.